ciao a tutti benvenuti bentornati sul mio canale sono mariano oggi parliamo di come creare dei moduli compilabili in pdf quindi non so nome e cognome dove si è venuto a conoscenza del mio sito cosa ne pensi qual è la tua pizza preferita e così via qualche tempo fa se ti ricordi avevamo fatto un altro video che parlava della stessa cosa ma su word qui invece su uno strumento completamente gratuito ed inoltre il prodotto sarà in pdf quindi pdf completamente riempibili solo nelle parti che tu decidi che l'utente deve riempire questi moduli poi potranno essere inviati per post elettronica sul tuo gruppo whatsapp telegram e di tante altre cose a seconda di quello di qual è la tua esigenza prima di partire ti voglio ricordare di iscriverti al mio canale perché davvero a te non costa nulla per me un grandissimo enorme favore questi sono tutti gli altri miei social ti aspetto sul canale telegram abbiamo tantissime offerte a settimana che ti vado a dare inoltre per chi vorrà condividere con me questa bellissima esperienza su youtube ti lascio anche tutti i miei riferimenti e considera che il modulo compilabile anche già fatto da me quindi a te ti basterà cambiare nome cognome le cose che vuoi mettere le andrò a mettere su tipi scaricabile per te quindi non ci resta adesso che partire immediatamente eccoci qui lo strumento che andremo ad utilizzare sarà chiamato libre office e dunque uno strumento gratuito lo abbiamo già visto quando abbiamo parlato delle alternative gratuite a microsoft office se non hai visto il video te lo raccomando perché ci sono tantissimi strumenti che abbiamo già visto per libre office basta fare il download quindi ci possiamo andare a scaricare completamente libre office è per diverse piattaforme quindi non abbiamo problemi una volta che è installato avremo un documento vuoto del genere e vorremmo a creare un modulo in pdf ora io le operazioni preliminari non te le faccio vedere perché andiamo ad inserire magari una tabella e quindi salterei direttamente questa parte abbelliamo un attimo il nostro modulo e ci ritroviamo appena fatto eccolo qui sono andata ad inserire una un logo così di inizio ti piace il nostro stile come possibile sottotitolo o titolo del nostro modulo e poi iniziamo nome cognome data di nascita quali delle nostre magliette ti piacciono di più e qui andremo ad inserire alcune scelte come se è venuto a conoscenza del nostro sito anche qui andremo ad inserire alcune scelte a se qualcuno ha già fatto acquisti o no sul nostro sito e poi una casella di consigli in modo da poter migliorare sempre il nostro servizio alla fine grazie per avermi aiutato ed il link a disposizione se ci vuoi andare anche su questo link vedrai tante magliette spiritose cominciamo immediatamente come facciamo a mettere ad inserire dei campi nel menu insert abbiamo diverse cose ad esempio come una text box e già qui potremmo andarle ad inserire una casella di testo ma per avere tutti i controlli a disposizione dobbiamo andare su view poi su toolbar e qui sulle toolbar c'è una form controls e quindi abbiamo tutto il form i form vuol dire un modulo e tutti i controlli del modulo una cosa importante che ti devo dire è che sul form design vedete come in basso mi appare un'altra sezione che è questa che poi andremo anche ad utilizzare iniziamo subito a mettere nome e cognome qui vogliamo inserire una text box che vuol dire casella di testo e la vado a disegnare ora se io ho inserito questa parte qui cioè snap to grid vuol dire che la mia casella di testo andrà più o meno a dirigersi verso i contorni della tabella che già ho inserito una volta che abbiamo inserito una casella di testo se ci faccio clic due volte qui avrò tutte le cose che posso cambiare affinché la mia casella di testo venga migliore questo è il nome del campo e lo posso chiamare nome e cognome in modo che poi mi ricordo dove l'ho inserito ed inoltre qui su default text questo sarà il testo che le persone andranno a dire a vedere quando apriranno il nostro modulo quindi magari qui ci scriviamo inserisci il tuo nome e cognome qui possiamo cambiare tante cose ad esempio il font allineamento il background scegliere quale background vogliamo e tante cose che possiamo scegliere all'interno per abbellire o per modificare la nostra casella di testo per ora io lascio così perché mi piace su data di nascita chiaramente andremo a mettere un campo data eccolo qui date field lo vado a cliccare e poi a disegnare qui già mi apparsa ho la parte di proprietà e andiamo a vedere come modificare le proprietà del nostro campo di data qui possiamo mettere una data minima e una data massima il formato che possiamo mettere standard oppure possiamo scegliere quello che vogliamo vedete che il formato standard è questo quindi all'europea forse all'italiana quindi giorno mese ed anno su word se ti ricordi avevamo la possibilità di far comparire un calendario qui non è possibile farlo o perlomeno io non ci sono riuscito se tu ci riesci ti prego scrive uno qui nei commenti però possiamo ammettere un help text che significa quando il mouse va sopra quel campo gli dice quale deve essere il formato che devi inserire cioè qui ci puoi scrivere quello che vuoi sulle 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 help text però io metterei una cosa del genere gg barra mamma barra a a a a se chiudo e passo con il mouse sopra questo è un classico mouse over come mi dice giorno mese anno così le persone saranno più precise nell'inserimento della data ora andiamo ad inserire delle checkbox che sono delle caselle di scelta multipla e sono vedete queste qui la differenza tra le checkbox e le option button è che mentre nella checkbox tu puoi ammettere più opzioni e questo è un classico cioè è universalmente riconosciuto che il quadrato significa più opzioni opzionabili scusami il giro di parole invece qui l'option button è o l'uno o l'altro per ora andiamo a mettere delle checkbox e quindi scrivere ad esempio quali delle nostre magliette ti piacciono di più vado a mettere un campo qui clicco due volte vedete che è scritto un pochino piccolo però il nome il label quello che a noi interessa magari scriviamo matematica perché lì ci sono ad esempio delle magliette di matematica molto molto spiritose e una volta che l'ho messo poi qui come al solito potete cambiare tantissime cose che voi volete io a dire il vero vorrei magari mettere il carattere un pochettino più grande e quindi qui su font clicco e metto magari 12 punti così è più visibile gli dico ok e vedete che mi è comparsa la matematica ancora qui vado a cliccare in modo da avere a posto della checkbox magari ci scrivo cibo perché abbiamo delle magliette spiritose per quanto riguarda la parte di mangi troppo mangi poco e cose del genere ancora qui sul font 12 punti così è più visibile metto qui vado ancora ci scrivo frasi celebri qui in basso vado a cambiare il tipo di font così tutto sarà perfetto ed allineato eccoci qui l'ho messo poi dovrei allinearlo rendere un pochino più bellino come sei venuto a conoscenza del nostro sito qui dunque posso inserire quelle che vengono chiamate delle combo box sono queste e i suoi cugini stretti sono le list box le combo box sono le caselle combinate mentre le list box che sono i riquadri di riepilogo la differenza tra l'una e l'altra è che mentre nella prima quindi nella combo box l'utente può aggiungere dei contenuti invece nelle list box soltanto le cose che voglio che loro scelgano quindi come se è venuto a conoscenza del nostro sito vado a mettere una combo box eccola qui la vado a disegnare magari la disegno anche un pochino più piccina sempre il doppio clic qui cosa più importante sono le list entries una volta che metto qui vedete che mi appare questo editor in cui quando do a capo sono le varie scelte quindi magari posso mettere facebook youtube telegram instagram come se le volessi mettere a mano le debbo andare a mettere tra virgolette e separate da un punto e virgola se invece do l'invio me le mette automaticamente e dunque ecco qui anche abbiamo fatto la nostra combo box la list box te la lascio da mettere da sola da solo ora andiamo avanti dal momento che qui le risposte possono essere o sì o no posso scegliere ecco le option button quindi vado qui mi posiziono ecco mi sono posizionato male ma lui mi ha riposizionato clicco e gli vado a mettere l'opzione che è sì però ecco qui qui dobbiamo stare attenti il group name cioè siccome qui deve ogni volta che vado a cliccare su sì non mi clicca no il group name deve essere lo stesso per tutto il gruppo il group name io magari lo chiamo sì no vado ad inserire un'altra sempre qui su option button la clicco la vado ad inserire metto il label è no il group name come al solito ci metto lo stesso altrimenti lui si sbaglia come potremmo migliorare il nostro servizio ecco qui voglio andare a mettere eh no 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 ho sbagliato non option button ma una casella di testo ancora eccola qui una text box però questa la voglio un pochino più grande e con la possibilità di scrivere diverse cose ci clicco due volte qui in fondo attenzione eccolo qui questa è una cosa importante cioè gli devo dare la possibilità di una multiline dal momento che eh se qualcuno mi vuole scrivere più cose è interessante salgo sopra perché ti devo far vedere il max text length qui possono decidere quanti caratteri voglio mettere se lascio zero lascio la possibilità di scrivere quanto vuole il mio utente abbiamo fatto tutto ti ho fatto vedere tantissime cose ora dobbiamo vedere però l'effetto che fa prima di andarlo a pubblicare in pdf usciamo dal design mode eccolo qui questo è il mio testo fatto come si deve insomma come lo vedrà l'utente ti faccio vedere le scelte poi in pdf perché altrimenti tu non ci credi che siano cliccabili una volta che abbiamo fatto tutto anche in design mode è tutto finito devo andarlo a stampare in pdf ho due opzioni una più veloce eccola qui export directly to pdf oppure file poi gli faccio export as pdf e attenzione perché l'unica cosa che deve essere che da qui devo stare attento è che qui ci sia scritto create pdf form e submit format in fdf lo salvo adesso poi lo apro e ti faccio vedere l'effetto che fa eccolo qui il mio modulo che ho già salvato nella cartella che poi andrò a mettere sia su patreon che su tp a seconda di dove mi vuoi raggiungere inserisci il tuo nome e cognome che è quello che avevamo scritto la data di nascita qui matematica cibo e frasi celebri le posso cliccare tutte invece qui vediamo che si no sceglie o l'una o l'altra come sei venuto a conoscenza del mio sito posso mettere facebook oppure posso mettere youtube posso mettere instagram e tante altre cose potremo come potremmo migliorare il nostro servizio vorrei più magliette quindi ecco io direi ti ho detto tutto ti ricordo di scrivermi qui nei commenti nel caso in cui mi sono scordato delle cose oppure tu sia riuscito a migliorare magari le cose che ho fatto sai cosa siamo siamo rassunto di storie sui social a portata di smartphone per conoscenti parenti ed amici che non conosciamo e non salutiamo sai cosa penso siamo le menti pensanti fiaccate da show da richiamo dove votiamo col tonico pollice poi ci arrabbiamo